Il 14 marzo 1998 viene ritrovato il corpo di una ragazza a Castelluccio dei Sauri, un piccolo paese in provincia di Foggia. Il cadavere appartiene a Nadia Roccia, una ragazza modello, conosciuta da tutti. Apparentemente sembra un suicidio, ma la realtà purtroppo è molto più scioccante di quanto chiunque potesse immaginare. Amici miei, buonasera, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose, siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi, finalmente, a grandissima richiesta, e avete ragione, lo so, lasciamo i nostri tanto amati e odiati Stati Uniti per atterrare direttamente nella nostra bella Italia, più precisamente in Puglia. Probabilmente tra di voi che mi state guardando c'è qualcuno che è della Puglia e sicuramente ha sentito parlare di questa orribile storia, ma in generale anche se non siete della Puglia sono sicuro che molti di voi già hanno un'idea di ciò che sto per raccontarvi. In ogni caso si tratta di un caso appunto di cronaca nera italiana molto triste e anche inquietante, per cui mettetevi comodi e cominciamo. Castelluccio dei Sauri, il luogo in cui sono avvenute le vicende che voglio raccontarvi oggi, è un paese piuttosto piccolo, anzi molto piccolo. Un borgo in cui tutti i 2000 abitanti si conoscono, in cui le porte di casa rimangono aperte, in cui i vicini si parlano da una finestra all'altra e in cui tradizione e modernità convivono. È proprio in questo clima sereno e familiare che il 14 marzo del 1998 succede qualcosa che rompe l'equilibrio di questo tranquillo paesino del sud per sempre. Le persone di cui vi voglio parlare sono tre ragazze molto giovani, di solo i 18 anni. Parliamo di Nadia Roccia, Anna Maria Botticelli e Maria Filomena Sica. E no, non sono tre ragazze sconosciute. Le tre si conoscono fin dall'infanzia. Si può dire che sono praticamente migliori amiche. Nel pomeriggio di quel 14 marzo, le ragazze si danno appuntamento nel garage della casa della famiglia Botticelli per studiare insieme. Quell'anno infatti le aspettava la tesina di maturità, per cui dovevano prepararsi a dovere sia per preparare appunto la tesina, sia in vista dell'esame della maturità. Le ragazze passano così un pomeriggio di studio e ovviamente anche chiacchiere, che però viene bruscamente interrotto intorno alle 20 di sera. I familiari di Nadia Roccia a quell'ora vengono allertati dalle amiche della ragazza, Anna Maria e Maria Filomena. Le due, preoccupate, dicono loro che poco prima erano uscite dal garage per andare a recuperare qualcosa da mangiare. Su richiesta di Nadia, tra l'altro. Che a detta loro però non si sentiva bene, ma al loro ritorno al garage, si sono rese subito conto che la porta era chiusa a chiave, dall'interno. Hanno bussato più e più volte, senza ricevere risposta, nonostante stessero urlando il suo nome ormai preoccupate. E così sono passati i minuti. Quando le ragazze si sono rese conto definitivamente che qualcosa non andava, hanno deciso di allertare appunto i familiari di Nadia. I genitori della giovane a quel punto si dirigono subito a casa Botticelli e quando si trovano davanti alla porta del garage, presi dall'adrenalina del momento e anche dalla paura, decidono di sfondarla e entrare. Ma davanti a loro, a terra, giace il corpo senza vita di Nadia, è riversa sul pavimento e ha una corda stretta intorno al collo. La giovane viene subito portata in ospedale, ma all'arrivo al pronto soccorso per lei ormai non c'è più niente da fare. Essendo un paesino di 2000 abitanti, la notizia che la giovane Nadia Roccia si è suicidata nel garage del brigadiere Botticelli si diffonde a macchia d'olio. Il medico di guardia, all'arrivo di Nadia al pronto soccorso, afferma che la temperatura corporea della ragazza è molto bassa. Questo significa che lei in realtà era già morta da qualche ora, ma sul corpo non vede dei segni che potessero ricondurre a un ipotetico suicidio. Quando il giorno dopo il caso arriva in questura a Foggia, fa subito insospettire l'ispettore di turno, che pensa immediatamente che non si tratti di un caso di suicidio. Costui decide quindi di attivare le pratiche affinché si conducessero delle indagini più approfondite su quanto accaduto, come potete immaginare la notizia è sulla bocca di tutti fin da subito. Perché oltre a essere sui giornali locali, viene trasmessa anche su quasi tutti i telegiornali nazionali. Essendo internet ancora agli albori e poco usato, la televisione era praticamente l'unico mezzo di comunicazione, o almeno il più popolare. Per cui in pochissimo tempo tutta l'Italia viene informata di questo tragico evento. Una ragazzina di soli 18 anni, per qualche motivo sconosciuto, aveva deciso di togliersi la vita. Le dinamiche tuttavia sono piuttosto strane, c'è qualcosa che non torna e come vi ho detto sia il medico che l'ispettore hanno grossi dubbi fin da subito. Così inevitabilmente si comincia a pensare che dietro a questo presunto suicidio si nascondesse qualcosa di più grande, di più spaventoso. Tra le persone che hanno scoperto il corpo di Nadia, oltre alle amiche e ai genitori, vi era anche il fratello di Nadia e il fratello di Anna Maria Botticelli. Ecco, si è scoperto che il fratello di Anna Maria, la sera della morte di Nadia, doveva andare a ballare. E mentre la ragazza veniva portata in ospedale, ha detto queste esatte parole, ma questa proprio nel mio garage doveva morire. Si tratta sicuramente di parole di un certo peso che fanno insospettire non poco gli agenti. Cioè, per il ragazzo, una qualunque serata in discoteca era più importante della vita di una ragazza? Una ragazza che tra l'altro conosceva? A questo punto i dubbi si amplificano e i carabinieri decidono di recarsi a casa della famiglia Botticelli per perquisirla. Durante il primo sopralluogo, sotto il tavolo del garage su cui le ragazze stavano studiando, viene trovato un bigliettino. Sul foglio, una scritta fatta a macchina da scrivere, firmata proprio da Nadia. A tutti gli effetti quella era una lettera di suicidio. Lettera di addio. Questo però desta subito parecchi sospetti. In primo luogo, perché avrebbe dovuto lasciare un messaggio di addio scritto a macchina e non a mano se poi ha lasciato la firma scritta a mano? E in secondo luogo, è strano proprio il contenuto di questo messaggio. Nadia, nella lettera, confessa la sua omosessualità e dichiara di essere innamorata della sua amica e compagna di banco, Anna Maria, aggiungendo che purtroppo il sentimento non era ricambiato. Continua poi scrivendo che il motivo che la spinta a voler togliersi la vita era proprio il suo orientamento sessuale, che avrebbe sicuramente dato vita a brutte voci nel suo paesino, voci che lei non sarebbe riuscita a sopportare. Sebbene sia un motivo che purtroppo negli anni ha spinto fin troppe persone a suicidio, risulta comunque molto strano, soprattutto agli occhi dei genitori di Nadia, che sapevano benissimo che la ragazza invece era entusiasta di finire il liceo e di iniziare l'università, magari probabilmente anzi in un'altra città, lontano dal castelluccio e lontano dalle tradizioni antiche che restavano ancora comunque troppo vive nel paesino. Quindi perché avrebbe dovuto farla finita per questo motivo, quando avrebbe potuto iniziare a tutti gli effetti una nuova vita, magari una relazione con una persona dello stesso sesso, lontano da lì e lontano anche dalle voci maliziose? Gli investigatori cercano tempestivamente altri indizi che potessero confermare o smentire completamente la teoria del suicidio. Decidono di andare a parlare con i genitori di Nadia e fare le loro domande sulla ragazza e sul suo stato di salute mentale. Dovevano scoprire se magari soffrisse di qualche disturbo depressivo o se avesse mai manifestato sintomi di ansia o disturbi ossessivi, pensieri intrusivi, insomma qualsiasi cosa che avrebbe potuto giustificare quel gesto così estremo. E quando i genitori negano ogni cosa e dichiarano che Nadia non aveva mai mostrato alcun segno che potesse far presumere un possibile suicidio, la polizia comincia a fare domande indirizzandosi su una possibile pista di omicidio. Infatti durante il primo sopralluogo avvenuto in garage, gli investigatori si erano resi conto che il soffitto era alto 5 metri e non c'erano travi o ganci che avrebbero permesso di attaccare la corda con cui ipoteticamente la ragazza si era tolta la vita. Analizzando a fondo l'intera stanza hanno anche notato che era improbabile, se non impossibile, che Nadia si fosse impiccata lì. Questo spiegherebbe perché il suo corpo è stato trovato a terra e non ancora appeso al soffitto. Molto presto viene anche esclusa l'ipotesi che la corda potesse essersi spezzata perché era lunga soltanto 2 metri, i conti non tornavano. C'era qualcosa di molto strano in tutta questa vicenda. Dopo aver raccolto tutti gli indizi e dopo aver avuto conferma dai genitori che la ragazza non aveva mai avuto tendenze sui c***e, il pubblico ministero Alfredo Viola decide di avviare definitivamente le indagini per presunto omicidio. Viene così contattato il medico legale che ha effettuato l'autopsia sul corpo, Nicola Silvestri, che è anche docente di medicina legale all'università. Ecco, al medico legale viene chiesto di effettuare un esame esterno, quindi all'esterno del corpo, che è un esame importantissimo per determinare e anche esaminare le ferite esterni visibili. Nel caso di Nadia, la ragazza presentava delle ferite sulle labbra e alle guance. Ferite procurate probabilmente da altre mani o da un oggetto comunque sempre esterno. Insomma, ferite che comunque non possono assolutamente essere riconducibili a un suicidio in totale solitudine, almeno. Oltre a ciò, si è chiesto anche di ipotizzare l'ora del decesso, perché quando quella sera Nadia è arrivata al pronto soccorso, era subito stato constatato che la sua temperatura corporea era troppo bassa e che quindi era già morta da qualche ora. Tuttavia l'ora del decesso poteva solo essere ipotizzata proprio a grandi linee, il che sicuramente non ha aiutato le indagini. C'è però una cosa, un dettaglio molto importante che finalmente smentisce a tutti gli effetti l'ipotesi del suicidio e conferma invece quella dell'omicidio. Sul collo di Nadia, ore dopo la morte, hanno cominciato a formarsi delle impronte ipostatiche, dette anche liver mortis, ovvero la decolorazione del corpo dopo la morte a causa della stasi del sangue che non viene più pompato dal cuore e che quindi per via della gravità filtra lentamente verso il basso attraverso i tessuti. Il sangue raggiunge così la pelle e si formano delle macchie di colore variabile, rosso, marrone, violaceo, nero eccetera. Ecco queste macchie si chiamano proprio impronte ipostatiche. Compaiono già lievemente un'ora dopo il decesso e tendono a rendersi sempre più visibili col passare delle ore. E nel caso di Nadia, queste impronte rivelano altre impronte, ma non naturali e determinate da liver mortis, bensì derivate dalla compressione e dal peso di qualcosa di estraneo. E questo qualcosa di estraneo, fanno in fretta a capirlo, non erano altro che delle dita di una mano che hanno primuto con forza contro il corpo di Nadia quando la ragazza era ancora in vita. E non si trattava di impronte della mano di un uomo, bensì di una donna. A questo punto non c'è più alcun dubbio. Nadia Roccia ha segni evidenti di un'aggressione. Nadia Roccia, a soli 18 anni, è stata uccisa. Vengono definitivamente avviate le indagini per omicidio e si decide ovviamente di partire dal principio. Vengono subito contattate Anna Maria e Maria Filomena, che sarebbero appunto le ultime persone ad aver visto Nadia in vita. In quel momento le due non sono indagate per omicidio e non sono sulla lista dei sospettati. Vengono semplicemente convocate dalla procura di Foggia per alcune domande, per capire insomma come fossero andate effettivamente le cose quella sera. Ecco, le due, in quell'occasione, raccontano la stessa versione in sedi separate. Ovvero che Nadia era arrivata a casa di Anna Maria intorno alle 16.45 per appunto studiare insieme. Durante il pomeriggio Nadia ha poi iniziato a lamentare un forte dolore alle gambe, dicendo di sentirsi poco bene. Ha chiesto quindi alle amiche a una certa ora di andare a comprare qualcosa da mangiare. Loro quindi sono poi uscite e l'hanno lasciata da sola. Allora rientro, la porta chiusa del garage e tutto quello che vi ho già raccontato. E due ragazze sostengono fermamente l'avversione del suicidio. Tuttavia si era già capito quando vengono sentite che questa ipotesi era troppo inverosimile. Gli investigatori cominciano quindi a chiedersi per quale motivo si fosse messo in scena un suicidio e soprattutto chi avesse interesse ad uccidere una persona come Nadia. A seguito degli interrogatori le due vengono portate in un corridoio e lasciate sole per un po' di tempo. Aspettano che i carabinieri si allontanino e poi si abbracciano. A questo punto Maria Filomena dice una cosa. Dice queste parole. Speriamo che non si accorgano che è stata strangolata. Anna Maria si allontana di scatto. Guarda la sua amica negli occhi e le chiede se avesse detto qualcosa agli agenti. Maria Filomena scuote la testa. Le due si rimettono composte e attendono. I minuti passano. Per loro sembrano interminabili ma nessun agente viene a richiamarle. Ad un certo punto Maria Filomena si alza e inizia a camminare nervosamente avanti e indietro per il corridoio. Poi si rivolge ad Anna Maria e le dice se hai detto qualcosa ti mando in ospedale. L'amica però ripete che non ha detto assolutamente nulla agli agenti e la invita a rilassarsi. Durante quella conversazione tra le due ad un certo punto fanno chiaramente riferimento a Lucifero. Il che apre una nuova pista alla polizia. Quella di una setta satanica. Dalle intercettazioni telefoniche si sente Maria Filomena dire queste parole. Secondo me quel poliziotto sa tutto di tutti e cinque. E Anna Maria risponde che forse qualcuno ha parlato. Queste cose sono molto strane specialmente sapendo ciò che succede dopo. Quindi tenetele bene a mente perché non capisco. Comunque nonostante questo appunto nonostante queste dichiarazioni Alfredo Viola il PM sostiene fermamente che non ci sono mai stati riscontri che suggeriscono una partecipazione attiva di tante persone o altre persone durante l'omicidio. Quindi molto velocemente anche la pista delle sette sataniche viene esclusa. A questo punto non passa molto tempo dall'omicidio e Maria Filomena decide di liberarsi da un peso tremendo e dire tutta la verità su cos'era successo veramente a Nadia. Ragazzi vi giuro vorrei che tutti questi passaggi fossero più chiari. Vorrei dirvi tutti i dettagli di come hanno saputo cosa si sono dette dopo l'interrogatorio. Di come hanno intercettato le chiamate. Di quando è perché la ragazza ha deciso di dire tutto ma non sono proprio riuscito a trovarli. Cioè sembra che accada tutto un po' a caso da quello che vi sto raccontando e mi dispiace troppo ma davvero non trovo queste informazioni di contorno da nessuna parte. E vi ripeto questo è uno dei motivi per cui non mi piace parlarvi di casi italiani perché non si capisce niente cioè si si capisce però è tutto un po' confuso le informazioni sono sempre poco chiare. Sta cosa è assurda. Comunque sia Maria Filomena che Anna Maria in realtà decidono di confessare lo confessano entrambe e dicono che le assassine di Nadia Roccia sono proprio loro, le sue due amiche del cuore. Le due ammettono di aver partecipato attivamente all'uccisione dell'amica ma il movente che presentano alla polizia è senza senso. Provo al meglio delle mie possibilità a spiegarvi tutto quanto. Mi metto comodo perché vedrete che è proprio un casino. Le diciottenne dicono che il movente che le ha spinte a compiere il gesto è da ricollegarsi a dei sogni. A quanto pare l'atto di uccidere Nadia sarebbe stato ordinato dal padre defunto di Maria Filomena apparso in sogno più volte ad Anna Maria. In realtà le due confessano quasi subito l'omicidio. Quello che rimane un mistero è il reale movente. Anna Maria da tempo parlava spesso di un sogno in cui c'era come protagonista il padre di Filomena scomparso quando lei era piccola. A quanto pare in questo sogno lui le ordinava di uccidere Nadia. Ora a me questa situazione sembra un po' strana anzi molto strana perché cavolo Anna Maria avrebbe dovuto sognare il papà defunto della sua migliore amica che ne diceva queste cose. E com'è possibile che Maria Filomena abbia creduto veramente a questa storia del sogno? Per rispondere o almeno provare a rispondere a queste domande e prendere più chiare le dinamiche è importante aggiungere qualcosa su tutte e tre le ragazze. Fino ad ora non ci siamo soffermati sulla vita e sul carattere di queste persone ma arrivati a questo punto penso sia importante anzi fondamentale dare un profilo sia a loro due sia alla particolarità che avvolge la loro amicizia proprio tra di loro, tra loro due e la loro amicizia con Nadia. Infatti nel gruppo delle tre, Nadia e le altre due, in realtà sono Anna Maria e Maria Filomena ad avere un rapporto di amicizia più stretto tra di loro. Nadia per loro almeno è solo un contorno tra virgolette. Mentre per Nadia loro non erano solo un contorno erano molto importanti nella sua vita. Comunque, Anna Maria è alta, bella, con folti capelli mori, uno sguardo da femme fatale come viene descritto. Ha un carattere forte, è audace e determinata. Ecco da questo punto di vista tutto il contrario di Maria Filomena che invece è più timida, più insicura e questo probabilmente è anche causato dalla perdita del padre in giovane età. Sicuramente questo sentimento di perenne incertezza e timore si trasforma in un sentimento di invidia nei confronti di Anna Maria, che è più bella, più dinamica, più energica. In poche parole si sente inferiore rispetto alla sua amica. Purtroppo questa è una dinamica ancora presente in moltissimi rapporti di amicizia che sarebbero da definire amicizie tossiche. La persona più forte e autoritaria cerca di sovrastare quella più debole, magari soggiogandola e instaurando in lei dei dubbi, domande, insicurezze. In questo caso Anna Maria utilizza il padre defunto di Maria Filomena, ovvero una sua grande debolezza, grandissima, cioè immaginate, per averla in pugno sostanzialmente, per manipolarla. Dopo aver dato un minimo di contesto a questa amicizia malata, possiamo quindi tornare alle domande di prima. È davvero possibile che Maria Filomena credesse alla sua amica quando lei le diceva di vedere suo padre in sogno? Beh, questo sogno rappresenta per lei un bisogno, probabilmente inconscio, di ristabilire un contatto con il padre. In sostanza lei non è che ci crede, ma vuole crederci. Dai dialoghi emersi infatti si capisce chiaramente che Maria Filomena non si fida così ciecamente dell'amica, anche perché è arguta e intelligente. Debole non vuol dire stupida. I movimenti e le nuove piste quindi diventano due. Oltre al movente della setta satanica, già però praticamente escluso, adesso si aggiunge questo movente onirico che però non convince affatto gli agenti. Ora che abbiamo chiarito la situazione di amicizia, tra le due ragazze possiamo arrivare al punto clou della storia, alla persona clou della storia, ovvero Nadia. Nadia è molto amica di entrambe. Si tratta di una studentessa modello, sempre precisa e puntuale, e quindi diciamo che la sua presenza crea un giusto equilibrio tra la figura autoritaria di Anna Maria e quella invece un po' più debole di Maria Filomena. Tuttavia Nadia risulta essere fin troppo avanti, tra virgolette, per le storielle che racconta Anna Maria. Lei infatti non crede a questa cosa dei sogni e preferisce concentrarsi su aspetti più importanti della sua vita, come diplomarsi e iniziare l'università. Ah, ovviamente non è che le dicevano che nei sogni il padre diceva di uccidere Nadia, dicevano altre cose e lei comunque Nadia già non credeva alle altre cose. Comunque, Anna Maria ovviamente coglie sin da subito la perspicacia di Nadia e, viste le sue tendenze manipolatrici, non riesce proprio a sopportare che le dia della bugiarda. Così lei e Maria Filomena costruiscono una dimensione, praticamente, in cui ci sono solo loro due e piano piano iniziano a escludere Nadia. O meglio, in questo caso penso sia Anna Maria a cercare di allontanare Maria Filomena da Nadia. In pratica, le due costruiscono un rapporto in cui eliminano qualsiasi elemento che poteva essere di disturbo, come Nadia. Loro ammettono anche di non volere nessuna storia con dei ragazzi, che utilizzavano solo allo scopo sessuale. Alle ragazze infatti bastava stare insieme tra di loro per essere appagate da tutti i punti di vista, quasi come se fosse una relazione romantica. E ciò mi fa pensare. Non è che erano loro ad essere secretamente innamorate? Plot twist? Boh. Comunque, a questo punto Nadia, sentendosi esclusa dalle sue migliori amiche, decide di raccontare qualcosa che le facesse, insomma, riavvicinare a lei. E lo fa nel modo peggiore, ovvero dicendo una balla. Prima di dirvi di che balla si tratta, però, vorrei ricordarvi il contesto in cui ci troviamo. Siamo nella Puglia di fine anni 90. I giovani che vivono nei paesini ai confini delle grandi città sognano di emigrare altrove, dove ci sono più possibilità di carriera, ma sognano anche di studiare, di poter trascorrere i vent'anni facendo più esperienze possibili. Il futuro era a Roseo, potevano veramente pensare in grande. Non come adesso. Vabbè. Beh, ecco, è in questo contesto di fame di scappare via che Nadia decide di raccontare ad Anna Maria e Maria Filomena che lei ha la chiave per rincorrere questo sogno per tutte e tre. Racconta alle sue amiche di avere uno zio in America che era disposto ad aiutare le tre ragazze a sistemarsi negli Stati Uniti dopo il diploma. Sentendo questa notizia, ovviamente, le ragazze non stanno più nella pelle. Per loro che sono di provincia, questo rappresenta un'occasione unica nella vita. Un'occasione per viaggiare, per scoprire nuovi luoghi, esplorare, fare progetti, crescere. Tutto questo, tenete a mente, accade mesi prima, quasi un anno prima dell'omicidio. Quindi, per un sacco di tempo, le tre si sono riunite per fare progetti, per parlare del viaggio, di tutti i dettagli, per immaginare, sognare la loro nuova vita in America. E così sono passate le settimane, poi i mesi. E la voglia di scappare in America si è fatta sempre più grande e sempre più presente, ma anche sempre più vicina. Fino a quando non è arrivato il febbraio del 98. Periodo in cui Nadia decide di vuotare il sacco e raccontare la verità alle sue migliori amiche. Sempre tra virgolette. In sostanza, racconta loro che non c'era mai stato nessuno zio in America. Tutte le cose raccontate sugli Stati Uniti e sulla possibilità di andarsene erano in realtà solo bugie. Le amiche rimangono di stucco. Non potevano crederci. Tutta la gioia e la speranza accumulate nei mesi precedenti per una fuga negli Stati Uniti dopo la motorità lasciano il posto ad una gigantesca delusione. Quella meravigliosa possibilità di riuscire finalmente a lasciare il paesino di provincia per seguire il sogno americano in realtà non era mai esistita. Maria Filomena in realtà probabilmente è quella che ci è rimasta più male. Anna Maria invece... beh, lei non è rimasta contenta ovviamente. Come vi dicevo prima, lei è una ragazza che tende ad avere il controllo su qualsiasi cosa. Quindi immaginate la scena di quando Nadia le ha rivelato di averla presa in giro praticamente da un anno intero. Questo la fa andare su tutte le furie. E per Nadia purtroppo questa piccola bugia rappresenterà la sua condanna. Anna Maria e Maria Filomena quindi sono deluse, arrabbiate. La loro migliore amica, anche se non la vedevano come tale, le aveva presi in giro per mesi. Aveva fatto credere loro che c'era una remota possibilità di lasciare la Puglia, inseguire i propri sogni, realizzarsi lontani da lì, di imparare una nuova lingua e chissà magari di stabilirsi definitivamente dall'altra parte del mondo. A questo punto decidono ufficialmente di fargliela pagare. Iniziano a spargere la voce a scuola che Nadia fosse omosessuale. In questo caso dobbiamo entrare nella mentalità di quei tempi. Come sempre vi ricordo che ci troviamo nel 1998 in un piccolo paesino della Puglia. Quindi termini come gay o lesbian erano ancora veramente un grandissimo tabù e probabilmente rappresentava una vergogna per la persona accusata di esserlo. Le ragazze però capiscono in fretta che la loro sete di vendetta era troppa. Non bastava mettere in giro tutte quelle brutte voci su Nadia. Brutte per via sempre del contesto. Bisogna, secondo loro, fargliela pagare ancora di più. E così, piano piano, giorno dopo giorno, iniziano a premeditare il suo omicidio. Come prima cosa decidono di metterle del veleno per topi nella coca cola. Il che mi ricorda spaventosamente il caso di cui vi ho parlato qualche settimana fa. Se non l'avete visto recuperatelo dopo questo video. Ve lo lascio nelle schede qui e come video cliccabile alla fine di questo video. Comunque, un giorno le ragazze si ritrovano insieme per studiare e Anna Maria offre questa coca cola avvelenata a Nadia insieme a delle patatine. Nadia però accetta le patatine ma rifiuta la bibita perché è troppo piena di zuccheri. Questo, immaginate, avrà fatto incazzare ancora di più Anna Maria che non è riuscita a portare a termine il suo piano. Così, a seguito di questo episodio, le due decidono di seguire una nuova strada e questa volta decidono di ideare il crimine secondo loro perfetto. Anna Maria inizia a mettere in giro la voce che Nadia fosse ossessionata dalla sua compagna di banco. Che udite udite era proprio lei, Anna Maria. Le voci girano in fretta e le ragazze, soddisfatte, decidono di alimentarla ancora. Dicono in giro che Nadia era solita toccare Anna Maria anche in punti del corpo poco opportuni, che la seguiva in giro per i corridoi, che la guardava di nascosto da lontano. Insomma, questo, sommato alla voce che girava riguardo la sua omosessualità, distrugge mentalmente la povera Nadia. E a questo punto Anna Maria, comunque non contenta, deve solo fare un'ultima mossa per riuscire ad avviare definitivamente il suo piano, ovvero ottenere una firma da Nadia. E ci riesce. Un giorno va da lei e le chiede di farle una firma in fondo a un foglio bianco, dicendole che l'avrebbe fatta esaminare da un grafologo. Parecchio strano direi. Ma Nadia si fidava. Sicuramente non avrebbe mai neanche lontanamente immaginato che cosa aveva davvero in mente la sua amica. E infatti le ragazze scrivono una lettera da Dio, facendo finta di essere Nadia, in cui costruiscono un buon alibi per loro due e in sostanza chiedono ai familiari di Nadia, ai genitori di Nadia, di dare loro i soldi per fare il viaggio negli Stati Uniti che l'amica gli aveva promesso. In sostanza una lettera da Dio che hanno scritto sul foglio firmato in precedenza dalla vittima e in cui c'erano scritte veramente delle cose non tanto sensate, appunto per quello sono nati tutti quei dubbi. Anche per quello. Anna Maria comunque quel giorno, il giorno in cui è riuscita a far firmare il foglio a Nadia, esce da scuola con il sorriso. È contenta, tutto è pronto, il suo piano malato può cominciare per davvero. Quindi arriva quel famoso pomeriggio del 14 marzo. Anna Maria chiama Nadia e la invita a studiare nel suo garage, perché la tesina di maturità era alle porte e le ragazze dovevano avere un luogo in cui riuscire a studiare con calma, tranquillità, tutte insieme, no? Quindi la ragazza raggiunge le amiche poco prima delle 17. Loro la accolgono nel garage, si siedono sui cuscini che Anna Maria aveva sistemato accuratamente poco prima e poggiano i libri su un tavolino. Quella che doveva essere una banale sessione di studi tra migliori amiche, si trasforma però velocemente in un'aggressione e poi in un omicidio. Poco dopo le 18 e 30, Anna Maria e Maria Filomena mettono in atto effettivamente il loro piano. Inizialmente cercano di strangurare Nadia con una sciarpa. È Maria Filomena a stringere la sciarpa intorno al collo, che verrà poi ritrovata sulla scena del crimine. Anna Maria intanto la tiene ben ferma. Presto però le ragazze si rendono conto che uccidere una persona non è affatto facile come nei film, soprattutto se si utilizza una sciarpa. Allora decidono di strangolarla, a mani nude. E questo ovviamente si ricollega alle impronte che erano state trovate sul corpo di Nadia dopo il decesso. Torniamo quindi un momento agli interrogatori. Vi ho già detto in precedenza che le ragazze inizialmente erano state convocate dalla procura per delle semplici domande, essendo state le ultime persone ad aver visto in vita Nadia. In breve tempo però, probabilmente a causa di sensi di colpa o dalla semplice morale, le due crollano, non si sa però bene come, è Maria Filomena la prima a confessare tutto. A questo punto per Anna Maria non resta più niente da fare se non confessare anche lei, ovviamente. Accettano quindi di ricostruire le dinamiche dell'omicidio e decidono di farlo davanti ai magistrati. Ancora una volta però il movente sembra molto, molto confuso. Dopo le varie piste seguite, quella del suicidio e il motivo onirico, ora le ragazze svelano un nuovo movente, ovvero la bugia raccontata da Nadia riguardo lo zio in America. Questo però, anzi nemmeno questo, convince i magistrati, che ritengono sia un momento abbastanza scadente per uccidere qualcuno, soprattutto l'amica di una vita. Dunque, le ragazze vengono interrogate separatamente. Anna Maria dice agli inquirenti che inizialmente il padre di Maria Filomena le aveva comunicato in sogno di uccidere sua figlia, Maria Filomena, in modo da ricongiungerla a lui. Poi si sarebbe spostato su Nadia e le avrebbe detto che uccidendola le avrebbe garantito un posto in paradiso. A questo punto i magistrati iniziano a pensare che Anna Maria soffrisse di qualche disturbo mentale ed entrambe le ragazze vengono sottoposte quindi ad una perizia psichiatrica. Tuttavia, vengono considerate tutte e due in grado di intendere di volere al momento dell'omicidio. Le due, nonostante tutto, riusciranno comunque a prendere il diploma e verranno condannate solamente nel febbraio del 1999. E non potete immaginare quale è stata la loro condanna. Anna Maria e Maria Filomena vengono entrambe condannate all'ergastolo. Ma, da quel momento in poi, le due prenderanno ovviamente delle strade diverse e Maria Filomena inizierà ad accusare Anna Maria del crimine commesso, dicendo che la mente cattiva e pianificatrice dietro tutta questa storia era lei, era la sua. E gli anni successivi le due verranno richiamate a processo diverse volte e in particolare si continuerà a insistere per effettuare altre perizie psichiatriche. Dopo gli anni 2000, i test effettuati per valutare la sanità mentale di una persona prendono una vera e propria svolta e vengono anche presi molto più seriamente sia in generale che anche i tribunali. Viene così fuori che Anna Maria in realtà aveva dei gravi disagi mentali non indifferenti, quali depressione, schizofrenia e disturbo di personalità multipla. Maria Filomena in realtà risultava essere quella più sana della coppia e negli anni in carcere ammetterà i suoi errori, al contrario dell'amica che invece continuerà a sostenere la versione dei suoi sogni, cioè del padre dell'amica in sogno. Nelle successive perizie effettuate sulle due è anche venuto fuori che probabilmente l'orribile gesto compiuto è stato anche a causa del rapporto morboso che avevano, che appunto vivevano in uno stato totalmente irrazionale, quasi in una loro realtà totalmente diversa e distaccata dal mondo reale. E sentite qui, nel 2003 alle due ragazze viene finalmente riconosciuta l'infermità mentale e la pena, giustamente, passa dall'ergastolo a soli 25 anni di carcere, che sarebbero scesi poi a 21 grazie ad un patteggiamento. Pochi mesi dopo la condanna però, Anna Maria Botticelli viene scarcerata a causa dell'aggravarsi della sclerosi multipla, di cui soffriva fin da bambina, e Maria Filomena Sica viene rilasciata per buona condotta nel 2013. Ora entrambe vivono sotto nuova identità in Toscana e in Veneto. La particolarità di questo caso è che nonostante siano passati ormai 26 anni dall'omicidio non si è mai capito con certezza assoluta il reale movente che ha spinto le ragazze ad uccidere l'amica. E vorrei anche sottolineare quanto sia strana, per non dire altro, la giustizia italiana. Se avete notato, in tutti i casi che ho trattato ultimamente negli Stati Uniti, ogni singolo assassino è stato condannato all'ergastolo, spesso senza neanche la possibilità di richiedere la libertà condizionale. Nessuno sconto di pena per chi uccide qualcuno, soprattutto se ha sangue freddo e premeditando il tutto da tempo. Ovviamente tenendo conto delle patologie e condizioni psichiche degli assassini, eh. In Italia, però, libere. Una di loro praticamente da subito, per via di una patologia, e non ho capito i dettagli, anche qui i dettagli non si conoscono, cioè, rilasciata nel senso che è libera e prende solo le cure per la patologia, cioè, non si capisce. E l'altra rilasciata in anticipo, in largo anticipo, per buona condotta. Cioè, siamo sicuri che persone del genere possano stare in libertà in giro per il nostro paese? Specialmente se penso ad Anna Maria. Con tutti i disturbi che le hanno diagnosticato, io spero vivamente che le siano state somministrate le dovute cure, anche se dubito. E questa cosa, ragazzi, fa paura. Io sono assolutamente d'accordo su una riduzione della pena, qualora si scopra, appunto, di disturbi mentali. Ma l'imputato deve essere seguito e controllato a dovere durante gli anni di carcere e dopo. Soprattutto dopo. E sicuramente non dovrebbe essere fatto uscire per buona condotta, secondo me. Cioè, no. Quindi, Nadia, secondo voi, una ragazzina di 18 anni che, la cui unica colpa è stata dire una bugia, ha ricevuto giustizia? D'accordo che niente avrebbe potuto darle giustizia, ma così sembra quasi una presa in giro, cavolo. Vabbè, la smetto, sennò qua iniziano le parolacce. Vabbè, voi come la pensate riguardo questo argomento? Io sicuramente non sono esperto, non ho studiato diritto penale, non conosco le norme del nostro paese, ammetto assolutamente la mia ignoranza. Ma proprio da un punto di vista etico e morale, le pene, le condanne, le riabilitazioni non dovrebbero essere più lunghe, più curate, più adeguate, a conseguenza di azioni, almeno come l'omicidio premeditato. Cioè, fatemi sapere cosa ne pensate voi, specialmente se siete più ferrati in materia, se avete studiato. Spiegatemi davvero, spiegatemelo, perché si può incorrere a queste sanzioni così, un po' addolcite. Passatemi il termine, non saprei come definirle. Io penso che in questo caso non ci sia stata una reale giustizia. E Nadia, che quel giorno usciva di casa con la spensieratezza che aveva di solito, non ha mai fatto ritorno a casa. E per cosa? Per cattiveria? Per dei disturbi mentali? E ok, l'ultima avrebbe più senso, ma bisognerebbe anche agire sotto questo punto di vista, prevenire, e in casi come questo, curare, trattare, tenere sotto controllo, non liberare, via. Vabbè, non ho altre parole, ditemi voi cosa ne pensate. Intanto, a voi pochissimi, che rimanete fino a qui, anticipo che presto vi parlerò di alcune storie di persone sopravvissute all'incredibile. Ve l'avevo già accennato qualche settimana fa, ma ora ho finalmente cominciato a lavorarci sul serio, e sarà spettacolare, perché vi farà capire quanto in realtà può essere forte e resiliente l'essere umano. Spero quindi che rimarrete nei paraggi, per cui se vi ho incuriositi, ricordate di massacrare il pulsante iscriviti. E adesso parlo con te. Sì, proprio con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare, ti consiglio questa storia da brividi, che è quella di cui vi ho accennato prima, quella della Coca-Cola, quando ho parlato della Coca-Cola, e oppure questa playlist, in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo. Vi ricordo infine di seguirmi anche su Instagram, se volete farvi i cazzi miei. E niente, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo venerdì, con un altro file. Ciao!